Musica Benali amici di Youtube, qui il vostro Nikarg e oggi siamo giunti al Grand Finale si, siamo di fronte a questa porta dobbiamo posizionare i tarocchi già vabbè, posizioniamoli l'impiccato qui l'occhio della notte andava qua, penso la luna misera qui il matto qua e la papessa la porta è sbloccata la disposizione delle carte, ce la sapevo perché avevo visto precedentemente il video del mio peggio appiccino grazie, grazie, grazie tante mogliettine amiche ovviamente sentiamo questa musica eccetera eccetera inquietante noi procediamo verso l'infinito e oltre, no andiamo ancora avanti una porta e godiamoci la scena cosa voglio che voglio? Ma non ho perduto la mia mente come voi. Do you think this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like less of 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has lousy taste. You mock God? Traitor. You will go to hell. Not that again. Who do you think you are claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home? This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way... Oh, did you kill me? Well... Well... The guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. You'll go to hell! What did you do? Nothing important. You're not going to run? I guess this is the end. No. The beginning. As Vincent said, the time has come. Melissa, I'm saddened that you didn't agree to this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a God born from hatred can never create a perfect paradise. Happy people can be so cruel. Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering? Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. And save you too? Happy ending? I'd rather go to hell. No. I don't expect to be saved. And that's fine. Unless, my dearest, for the pain that I've caused you, I deserve no mercy. Even if it was to save mankind, it was too deep a sin. It was humblest for me to try to hasten the day of her arrival. Sacrifices were made. Those are my sins. If you feel so guilty about it, why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent? The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. But God loves even you. Now, Alessa, there's nowhere else to run. God! Oh, no! Just accept it, Alessa. The pain will disappear. I've been waiting so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day! Alessa! Shut your stinking mouth, bitch! brutta figlia di una donna di mal di natura insomma ecco questa è una delle cose che non dovete fare visto che così l'odio in Heather cresce a dismisura si verifica un finale non ufficiale ossia la nascita di dio oh sono dio si si vabbè la scena è quella di game over ma adesso vi mostrerò cosa fare dovete andare nel vostro inventario e vedete il ciondolo che è stato regalato innanzitutto fatemi ricaricare la vita perché no dai forse ancora presto ricordate il ciondolo eh bella mazza ferrata mia ricordate il ciondolo che è stato regalato da Henry dentro contiene la sostanza che parlava di cui si parlava nel libro di primo per combattere i demoni sia l'agla o potis quindi cosa farà Heather? guardatelo in questo filmato guardatelo in questo filmato guardato in questo filmato She is nearly here. Alessia, what have you done? What did you swallow? Well, yes, here it is. What is this? Looks like God didn't make it. Stop! Got it. Claudia! Oh! Everything! Kish Keefer! Malum! You cannot kill God! I will birth God! If you can't do it, Alessia, I will... Oh! 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 No! oh porca miseria Valtiel sembra che sia uscito abbia chiappato Claudio e difeso l'abbia portaggio quindi adesso andiamo a combattere con Dio e io quella can't be dead I was gonna kill you this is God è morto cazzi si no 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 una taffè macano una taffè macano una taffè macano muo dioschifoso bastardo ovviamente mi riferisco a questo dio sei vai li finisilo tutto l'arsenale ci ho usato Tutti i proiettili della mitratrice Tutti i proiettili della shotgun Quasi tutti quelli della pistola Ma sei morta Tutta merda Ok Penso proprio di sì Dad 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 Grazie a tutti. Heather, is it really over? Not yet. You're still alive. Heather, what the, what Heather was- Just a joke. You've got terrible taste. I'm sorry. Heather, did you- You don't have to call me that. But I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You're gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? I don't know. Don't you think blondes have more fun? He spoke of tortured souls, so outrageous the tall. You can lose all you have. Akira Yamaoka, che genio amici. Insieme a tutto il Team Silent, ovviamente, che ha sviluppato questo fantastico gioco. E siamo giunti qui dai titoli di coda. Anche questo let's play è finito. E quindi vi ringrazio tutti per averlo seguito dall'inizio fino alla fine, oppure se siete arrivati in mezzo, va bene anche in mezzo. Volevo ringraziare tutti per aver seguito appunto questo let's play e spero che anche gli altri let's play che faccia vi piacciono come questo. E se non vi è piaciuto siete liberi di dirlo. Anche perché siamo in un paese libero e non mangio nessuno, anzi sì vengo a casa vostra a prendervi e vi uccido, quindi non so se vi convenga tanto. Va bene, chi devo ringraziare? Vabbè, già ringraziato tutti quanti. Ah sì, anche la mia piccina per seguirmi e per i tarocchi soprattutto alla fine. Ah sì, avete perso the game, ancora una volta. Niente, quindi un saluto da parte del vostro Nicarg e al prossimo let's play o al prossimo video che farò o vabbè, lo sapete. Quindi ciao a tutti gente, buonanotte o buongiorno.